Allora, buongiorno a tutti, mi presento, sono Jaime Ginesu, lavoro all'assessorato alla Direzione degli Affari Generali Regione Sardegna e mi occupo praticamente dall'inizio della sua storia dell'open data per la Regione Sardegna, quindi voglio giusto presentarvi con questa presentazione, scusate le parole, un pochino l'evoluzione della storia dell'open data che riguarda il nostro ente pubblico e quindi arriviamo poi al discorso del contest, quindi vi risparmio le slide su cos'è l'open data, perché mi immagino che più o meno tutti quanti siate abbastanza ferrati ormai sul campo. Ora, per quanto riguarda la Regione Sardegna, la nostra storia di open data inizia nel 2012 attraverso un progetto europeo MED, chiamato Homer, che per la prima volta ha introdotto questa tematica all'interno della Regione. Parliamo di un progetto europeo, quindi di una sperimentazione, un oggetto un po' anomalo nel contesto della programmazione, di un ente regionale, ma che ha avuto nonostante tutto un buon successo e ha riscosso un certo interesse, al di là dei discorsi poi di obblighi a perseguire certe strategie. Quindi questa esperienza è stata molto positiva e grazie a questo abbiamo poi potuto lavorarci ulteriormente, arrivando nel 2015 alla definizione di una delibera sull'open data della Regione Sardegna. Quindi nel 2015, a fine 2015, la Regione Sardegna ha sposato sostanzialmente, formalmente, questa linea di principio e anche di intervento e ha pubblicato quindi le proprie linee guida per perseguire questo obiettivo. Dal 2015 l'attività si è poi evoluta attraverso la progettualità vera e propria che poi sta permettendo di realizzare da una parte l'infrastruttura tecnologica, dall'altra i dati e quindi la rete che poi consente la pubblicazione di qualità dei dati dell'ente. Quindi nel 2016 sono stati varati due interventi paralleli e comunque coordinati, da una parte un intervento sui aspetti tecnologici infrastrutturali, questo open data Evo che vedete scritto in piccolo e dall'altra un intervento su cui il Formez P.A. è l'esecutore che invece si occupa degli aspetti relativi alla formazione e alla comunicazione di progetto. Quindi attuare verso questi due interventi che sono attualmente in corso, stiamo realizzando la strategia open data, questi interventi avranno un termine nel 2018 e hanno come obiettivo appunto quello di dotare l'amministrazione di un portale, un catalogo aggiornato allo stato dell'arte con tutte le caratteristiche che dovrebbe avere per renderlo utilizzabile e fruibile da una parte, dall'altra l'obiettivo forse anche più ambizioso, di portare l'amministrazione a un livello di conoscenza e di sensibilità tale da poter di fatto produrre in modo continuo i dati, pubblicarli in queste modalità e sostanzialmente avere la sensibilità di perseguire questa linea di principio che non deve essere ovviamente solo un obbligo, ma deve essere qualcosa di radicato e al tempo stesso poi parliamo di comunicazione, quindi questo non solo formazione per quanto riguarda l'amministrazione, la parte interna o comunque gli enti locali, ma anche una sensibilizzazione verso l'esterno, comunicazione verso l'esterno. Dal punto di vista dell'infrastruttura abbiamo il sistema portale catalogo che di fatto espone gli open data dell'amministrazione, avete l'indirizzo qua sopra, chi non lo conosce, è open data regionesardegna.it, è il frutto di questo lavoro che ripeto è ancora in corso, quindi c'è un'evoluzione continua, è stato rilasciato il primo marzo di quest'anno, un'ulteriore release di agosto-settembre e più o meno al momento la release attuale va a sviluppare tutte le funzionalità che ci eravamo dati come importanti. La soluzione è l'insieme diciamo classico di un portale Drupal con il framework CCN per quanto riguarda il catalogo degli atti aperti, quindi uno standard abbastanza noto nell'ambiente e nel portale, rimando sempre qui, trovate tutte le informazioni ovviamente anche relative a tutta l'attività di progetto, la formazione, la comunicazione e ovviamente poi il contest. Feature dal portale sono abbastanza note, sempre a chi ha visto un po' di queste cose, rispetto allo standard CICAN noi abbiamo voluto implementare con l'intervento tecnico una serie di migliori e aggiustamenti che consentono in parte di rispecchiare anche la normativa attuale e in parte anche di migliorare un pochino la fruizione. Abbiamo quindi i nostri metadatti sono di tipo di catapiti, quindi abbiamo voluto giustamente seguire lo standard a livello europeo e poi italiano a cui dobbiamo adempiere e quindi tutto il sistema è stato modificato in tal senso. Abbiamo anche implementato la versione di cat e geodcat ap, quindi i dati geografici sono metadattati in questo modo, ci sono degli altri accorgimenti, abbiamo implementato lo score Timbernerly, quindi potete vedere il numero di stellette per intenderci, quindi la qualità formale del dato in maniera automatica, le licenze sono gestite lo stesso in maniera dinamica e il sistema restituisce l'RDF del dataset in maniera anche essa automatica, quindi queste sono delle funzionalità ulteriori rispetto al FICAN standard. Ovviamente possiamo andare a fare una preview semplice delle risorse, ma il nostro sistema non nasce per fare elaborazioni, analisi complesse, è un sistema che comunque rimane a livello di catalogo, quindi ovviamente qualsiasi elaborazione di una certa complessità deve svolgersi al di fuori, perché la finalità principe era quella di avere una piattaforma, un catalogo su cui tutta l'amministrazione, potenzialmente gli enti locali o altri soggetti anche del territorio potessero utilizzare per esporre i propri dati. Ora parlando di dati, questa è la parte forse una parte interessante per il contesto in cui parliamo, al momento parlo di oggi sostanzialmente abbiamo a catalogo 734 dataset, sono dataset molto vari dal punto di vista della tipologia, anche della qualità, c'è in atto un lavoro abbastanza pesante sia per quanto riguarda i nuovi dati, sia per la rivisitazione di quelli esistenti di cui poi parliamo, in ogni caso si vede che la stragrande maggior parte dei dataset hanno un'origine in regione Sardegna, quindi di fatto è l'ente regionale che al momento ha la pubblica in maniera preponderante, con però una partecipazione anche di comuni per esempio e altri soggetti del territorio regionale. Ovviamente l'interesse è quello di estendere il più possibile questa condivisione nell'ambito del territorio regionale e siamo solo all'inizio da un punto di vista progettuale per quanto riguarda questo aspetto. D'altra parte come consistenza di i dati vediamo che la maggior parte dei dati provengono dal geoportale, quindi sono dati geografici contenuti nel geoportale della regione Sardegna e gli altri sono più o meno distribuiti tra le varie strutture. Ovviamente questa fetta qui sono dati esquisitamente geografici, nell'altro caso abbiamo un po' di dati tabellari oppure altri. Al momento abbiamo censito come utilizzatori dei dati un 15 app, quindi dal punto di vista puramente delle applicazioni sviluppate in base ai dati abbiamo 15 app, alcune delle quali, delle quali legate ai trasporti di cui poi parlerò oltre e abbiamo attraverso la ricognizione Open Italy Open Data 500 abbiamo contato sei aziende che riusano i dati dell'amministrazione e di cui alcune, quattro se non sbaglio, hanno sede, non hanno sede in Sardegna, ma hanno sede altrove in Italia, Roma, Pisa e Bologna. Quindi diciamo che i risultati dell'apertura dei dati possiamo dire si sono visti immediatamente, se tenete conto che questo è un progetto partito di fatto l'anno scorso, a metà fine anno scorso e l'uscita del portale e di quest'anno. Giusto due parole sul dietro le quinte, per poi passare al catalogo e ai dataset diciamo più recenti. Cosa c'è dietro questo lavoro per un'amministrazione che di fatto partiva più o meno da zero? Una parte molto importante, anzi la parte sicuramente più importante di questa operazione è organizzazione è organizzativa, cioè bisogna portare l'ente o l'insieme, meglio di soggetti che ruotano intorno ai dati a convenire su modalità, principi e così via. Nel nostro caso parliamo di 12 assessorati più la Presidenza, la Regione Sardegna 7 agenzie, 57 enti pubblici vigilati e 28 società partecipate, oltre ad altre varie eventuali. Quindi tutti questi soggetti potenzialmente sono titolari e produttori di dati e ovviamente introdurre un'innovazione in questo senso, in questa struttura è estremamente difficile. Noi abbiamo iniziato il percorso appunto da un anno e mezzo forse. In questo contesto come struttura di massima abbiamo un soggetto che è la Direzione Generale di cui faccio parte, che ha assunto un ruolo di coordinamento della strategia, ma ovviamente non è un produttore, un grosso produttore di dati. I produttori stanno altrove, cioè sono le direzioni generali, gli agenzie e gli enti che hanno delle competenze verticali sulle varie tematiche. Quindi abbiamo un livello di dirigenti o di partimenti con una responsabilità sulla pubblicazione, l'individuazione e la pubblicazione dei dati. Abbiamo individuato una rete di referenti degli stessi dipartimenti che sostanzialmente svolgono il compito di cavalieri dell'open data, cioè sono coloro che all'interno delle strutture sostanzialmente rispondono e fanno da punto di contatto per il coordinamento rispetto a queste tematiche, con cui ci troviamo molto spesso sia nell'attività formativa che nell'operazione. Infine, ma non meno importante, poi ci sono i produttori, cioè tutti i singoli uffici che di fatto producono e detengono l'informazione. Ripeto, la parte più complessa di questo progetto è sicuramente l'aspetto organizzativo che stiamo cercando di affrontare. Un altro aspetto importante che riguarda poi strettamente anche il catalogo e l'uscita dei nuovi dati è il discorso delle problematiche legate agli aspetti legali dell'apertura dei dati. Per affrontare questo problema noi abbiamo pensato di inserire all'interno del progetto una vera e propria consulenza legata alla pubblicazione dei dati e quindi che potesse affrontare e dare risposte, adesso molto pratiche, sul possiamo o non possiamo pubblicare i dati ed eventualmente cosa dobbiamo fare per farlo. Quindi al momento sono già stati molti incontri e anche sono stati emessi dei pareri legali che quindi definiscono e in buona parte risolvono le questioni poste. Vedete un elenco a destra, sostanzialmente ambiente, sanità e trasporti, quali sono i casi finora considerati e in buona parte anche già risolti. Questo è un aspetto particolarmente importante e critico della produzione dei dati perché non vi nascondo che spesso qua si ferma l'attività di pubblicazione, nel dubbio di fare le cose per bene piuttosto che il rischio di bagliare o peggio ancora incorrere in responsabilità a danni di sorta, le cose si fermano. Quindi attraverso questo strumento di fatto siamo in grado anche di superare o almeno ricondurre certi problemi a una certa ragionevolezza. Devo dire che qua trovate un world cloud di parole chiave e appunto quello che si trova spesso sono problematiche relative alla titolarità del dato, quindi in effetti posso pubblicare un dato che magari non è prodotto strettamente da me, ma è rielaborato, eccetera, eccetera. Le problematiche relative alle eventuali danni per imprecisioni del dato e così via, tante questioni che in effetti sono preoccupano, ma che francamente posso dire che nel 50% buono hanno quasi un'immediata risposta positiva, per il restante 30% possono essere soggette a un approfondimento che è lo stesso risolutivo e i restanti casi magari hanno bisogno di più attenzione, quindi questo serve anche a mitigare le preoccupazioni. Un altro aspetto legato all'apertura dei dati e quindi il catalogo è quello della programmazione, ovviamente questo è un lavoro fondamentale che svolgiamo insieme ai referenti degli open data appunto nelle varie strutture che si occupano di individuare quali siano i dataset nello stato migliore piuttosto che di interesse, possibile interesse, piuttosto che anche in certi casi più facilmente gestibili per programmare un'apertura continua e consistente dei dati, quindi anche qui c'è stato un grande sforzo delle strutture, ci siamo dati dei compiti, ci siamo incontrati, ci incontriamo con una certa frequenza e grazie a questa attività qui abbiamo definito un piano che prevede quasi un centinaio, adesso questo non è l'ultimo aggiornamento, ma quasi un centinaio di dataset con una pubblicazione costante diciamo per i quali appunto è richiesto tutto il lavoro di cui parlavo sopra, quindi approfondimenti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista legale e attività poi anche manuale per aggiustare un pochino tutte le cose. Ora, tornando al catalogo, dicevo abbiamo al momento 700 e rotti, 730 e più dataset, qua vi propongo giusto gli ultimi arrivi appunto, quindi abbiamo una serie di dataset penso molto interessanti e ritengo molto interessanti dell'assessorato dei trasporti che ha avuto, devo dire nel contesto regionale, ha avuto una sensibilità particolare, forse è arrivato sicuramente prima di altri a sentire l'importanza di questa tematica anche per risolvere appunto i problemi di gestione e semplificare poi l'attività, anche l'attività degli uffici e questo ha ovviamente vantaggi a tutta la catena interna ed esterna, quindi detto ciò c'è stata una pubblicazione recente di un pacchetto di dati che riguardano i trasporti terrestri e anche parliamo di traghetti, quindi locali su mare e anche qui è prevista poi un'ulteriore rivoluzione, stiamo parlando adesso per anticipare di real time, di aeroporti, quindi è un lavoro continuo e devo dire molto intenso fortunatamente. Gli ultimi dati riguardano la qualità o meglio i servizi, l'assessorato ha appunto da una parte pubblicato i dataset, dall'altra dei dataset sulle linee, i percorsi, le fermate, gli orari, le tariffe recentemente, dall'altra sta utilizzando questi dati per raccogliere informazioni sulla qualità del servizio, questi stessi dati adesso vengono pubblicati per la prima volta, quindi li trovate online da pochissimo tempo. Altra categoria di recente pubblicazione è il turismo, dove abbiamo avuto diversi dataset, i dataset che riguardano i movimenti turistici degli ultimi anni, quindi parliamo dal 2013 al 2015 se non sbaglio, questi dataset ovviamente sono dati ufficiali, c'è un discorso di validazione, quindi non abbiamo al momento il dato, non possiamo pubblicare in questa forma il dato ufficiale, si sta valutando comunque una pubblicazione più frequente, che non abbia però la stessa ufficialità rispetto a quello che è trovato adesso. Quindi abbiamo i movimenti per comune e per provincia per più anni sul territorio regionale, questi sono i dati che vengono anche utilizzati in parte per il portale che di fatto poi dà l'informazione sul turismo nella regione Sardegna. Infine, o meglio sempre parlando di ultimi dataset pubblicati, abbiamo dato dell'urbanistica con un'attività di monitoraggio relativa agli incrementi volumetrici di immobili. Quindi questi, vi sto parlando dell'attività di forse un mese o due mesi, ripeto, tutti i tavoli sono in corso, quindi rivediamo nel prossimo mese o sicuramente prima del Natale di avere altrettanti dataset di interesse pubblicati. Prossimamente vi riporto infatti un elenco di dataset in lavorazione in fase abbastanza avanzata, se non di imminente pubblicazione, abbiamo l'elenco degli uffici del corpo forestale geolocalizzati, un dataset in particolare, ma ce ne saranno altri, proveniente dall'ufficio statistiche regionali che riguarda la struttura produttiva del territorio regionale, e una serie di dataset di grandi interessi dell'assessorato ambiente. Qua vedete il Retto di Natura 2000, parchi, eccetera, tutte dataset che ritengo possano avere un interesse molto ampio dal punto di vista sia degli sviluppatori che di possibili servizi, studi o altro. Questi sono alcuni dei dataset di, posso dire, più prossima pubblicazione, certamente all'interno, ritengo, all'interno del periodo del contest. Penso che alcuni di questi saranno, parliamo di giorni se non la settimana per la pubblicazione. Altre dataset che invece riguardano la cultura e la sanità sono in fase di valutazione. Quindi ci ho detto un cenno e poi comunque passerò la parola per le informazioni più specifiche sul contest. Tutto questo lavoro ovviamente ha senso nel momento in cui i dati vengono riutilizzati. Noi sappiamo che il discorso del riuso è abbastanza complesso. Abbiamo visto come quantificare il riuso dei dati sia difficile. Si può andare a vedere chi visita i siti, chi scarica i dati, ma di fatto poi trovare un modo per misurare e quantificare gli effetti di questa politica alla fine ha una sua complessità. Sta di fatto che un punto importante è quello di far conoscere, utilizzare il più possibile questi dati. Per farciò, a parte il discorso della formazione, noi abbiamo in cantiere delle attività di comunicazione e il contest open data ovviamente serve, è una di esse, è una delle parti fondamentali per stimolare la conoscenza e il riuso dei dati, anche con l'idea di utilizzare un pochino quelle che saranno le interazioni che si andranno a creare per raccogliere delle richieste, delle osservazioni e così via rispetto in generale a quello che stiamo facendo e poi anche ai singoli dataset. Quindi vuole essere un momento costruttivo sul tema. Per questa ragione quindi abbiamo organizzato, stiamo organizzando il contest che è stato lanciato ufficialmente, stiamo adesso lanciando ufficialmente con un'apertura da adesso fino a gennaio dell'anno prossimo, quindi parliamo di quattro mesi circa, è aperto a tutte le categorie, dai cittadini fino alle imprese, start up, piuttosto che scuole o università. Chiediamo che vengano proposte delle applicazioni piuttosto che delle dashboard, delle rappresentazioni visuali o degli articoli di data journalism sulla base dei dati, almeno di un dataset presente nel catalogo della regione Sardegna. Questo ovviamente non esclude il fatto di poter usare altri dati provenienti da altre fonti e anzi benvenga che ci sia un mashup tra fonti e sorgenti diverse. Ripeto, vuole essere un momento sia di valutazione, ma soprattutto di scambio è anche per cogliere i suggerimenti che possano venire da chi poi effettivamente mette le mani sui dati per svolgere un'attività, sia essa di studio, di analisi di un problema, sia invece di sviluppo di un servizio e di un'opportunità poi per i cittadini o altri soggetti. Avete ulteriori informazioni? Si trovano sul sito CONTEL 2017 che trovate nel portale Open Data, che poi vi rimanda a ulteriori collegamenti per la sottomissione delle richieste, di cui si parlerà però molto meglio nell'intervento successivo. Per promuovere e parlare del contest abbiamo organizzato dei webinar, di cui questo ovviamente è il primo caso e abbiamo il supporto attraverso l'Eldest di progetto che può aiutare per eventuali domande o informazioni che riguardano anche i COST CONTEST. Quindi per quanto mi riguarda ho terminato il mio intervento, vi invito a partecipare, invito veramente chiunque a partecipare, abbia l'interesse o anche la curiosità di riusare i dati a partecipare con un'idea originale o comunque nella forma che ci siamo detti. Termino qua il mio intervento lasciandovi dei recapiti, ovviamente potete contattarmi anche direttamente, non solo attraverso gli indirizzi di prima. Vedo una domanda. Sì, innanzitutto grazie Gemme per l'intervento, c'è una domanda che riguarda il tuo intervento, quindi se puoi rispondere ora prima di dare la parola a Sabrina. Erminio chiede se esiste una rete di referenti per l'open data di tutte le strutture della regione. Allora, sì, tornando al discorso dei referenti. Al momento non tutte le strutture sono rappresentate, la maggior parte delle strutture ha una rappresentanza di questo tipo, ma non lo hanno tutte per questioni organizzative, complessità organizzativa fondamentalmente. È stato richiesto appunto che ci fosse, è stato richiesto a tutte le direzioni e anche ad altri soggetti del panorama regionale che ci fosse indicato una rappresentanza, ma non abbiamo ancora la copertura completa. C'è da dire che in certi casi per come sono organizzati i dati, l'acquisizione dei dati, abbiamo comunque una copertura, perché faccio un esempio, nel caso del Geoportale, il Geoportale è un sistema che mette insieme molte tematiche diverse, di fatto fa da nodo per tutte quelle tipologie di dati, quindi riusciamo in certi casi a girare questo ostacolo. Stiamo ancora lavorando però per espandere e consolidare questa rete. Perfetto, grazie molte Giaime, anche per aver fatto questa panoramica rispetto a qual è l'approccio della regione sul tema Unped Data, come ci si è organizzati e soprattutto per averci raccontato quali sono i dati di cui stiamo parlando, quelli che invitiamo chi vuole partecipare al contest a riusare e a aiutarci a capire che cosa si può fare con questi dati. C'è un'ultima domanda che vedo solo ora, di Nunzio che chiede quale tipo di collaborazione avete con l'ufficio Statistica, dopodiché io se puoi rispondere a questa puoi dare la parola a Sabrina. Sì, allora l'ufficio Statistica, come le altre strutture regionali, ha una rappresentanza dal punto di vista dei referenti Open Data e sono tra i soggetti particolarmente attivi sul tema. Provengo giusto ieri per darvi l'idea, abbiamo avuto una riunione che riguarda aspetti legali della pubblicazione di alcuni loro dataset, ovviamente anche per la natura penso dei dati che trattano, gestiscono in buona parte, rialaborano solo particolarmente interessati al tema e ripeto c'è una collaborazione molto stretta. Il modello è sempre quello, cioè la mia struttura ha un compito di coordinamento, all'interno della struttura c'è un referente o più referenti Open Data con cui ci coordiniamo per arrivare poi di fatto alla pubblicazione in modalità Open Data Compliance dei dataset. Nel loro caso, in linea di principio, il processo è abbastanza naturale, avendo a che fare poi con una produzione di dati statistici che fino ad oggi è stata gestita attraverso reportistiche di tipo tradizionale, quindi dei documenti, dei report tavole e così via, e adesso si vorrebbe affiancare a una produzione invece di dataset machine readable, che quindi ovviamente hanno una caratteristica diversa. Io vorrei informarvi che Giamme continua ad essere collegato da qui alla fine del webinar, quindi se avete domande potete porle utilizzando la chat, darei però adesso la parola alla collega Sabrina Onano che ci racconterà, quindi Giamme ci ha parlato dei dati, Sabrina invece ci racconterà come si partecipa concretamente al contest, quali sono le regole, come funziona questo concorso. Quindi lascio la parola in video e in audio a Sabrina, prego. Grazie, buongiorno a tutti, vi chiedo di darmi un feedback sul fatto che mi vediate e mi sentiate correttamente, così vado avanti, mi presento, io sono Sabrina Onano, lavoro per il Formex e collaboro alle attività per la realizzazione del contesto Open Data Sardegna. In questo intervento vi racconterò brevemente il regolamento, che comunque trovate pubblicato sul sito contest.formex.it. Nel regolamento vengono descritte le modalità con cui partecipare al contest, quindi chi può partecipare, quando, in quale periodo è aperta la presentazione delle candidature, quali proposte possono essere candidate, come verranno valutate e dove dovranno essere inviate. Per realizzare il contest è stato pubblicato un sito, che è il sito contest.formex.it, dove trovate una serie di materiali utili alla presentazione delle proposte, sia materiali informativi che contenuti di approfondimento. In questo sito è possibile candidare la proposta e tutte le proposte candidate verranno visualizzate una volta superato un momento di moderazione. Nella barra superiore del sito sono disponibili i link attraverso i quali accedere ai diversi strumenti. Il terzo link evidenziato qua è alla pagina del regolamento, dove viene presentata una sintesi degli elementi principali del regolamento. In basso a sinistra potete vedere l'ultimo link in questa slide un po' piccolo e il link diretto per scaricare il regolamento. Vediamo adesso i singoli aspetti descritti. Chi può partecipare al contest Open Data? Come già detto, il contest ha l'obiettivo di coinvolgere, di stimolare un po' il confronto sui dati del catalogo Open Data della Regione Sardegna e far conoscere il catalogo Open Data della Regione. È aperto ai cittadini che possono partecipare singolarmente o in maniera associata, le imprese, scuole e università dell'Unione Europea. La partecipazione da parte delle scuole può essere fatta attraverso dei gruppi classe, che per le scuole devono avere un numero massimo di 30 partecipanti, per le università 10 partecipanti. Le classi possono essere costituite, i gruppi classe possono essere costituiti anche da alunni appartenenti a classi diverse. Abbiamo pensato di estendere la partecipazione a tutti i cittadini dell'Unione Europea perché ci farebbe piacere veramente coinvolgere in questo momento di confronto quante più persone possibile. Quando è possibile partecipare al contest? Come è stato già accennato, il contest è aperto da circa una settimana, è stato avviato il 16 ottobre e sarà possibile inviare le candidature fino al 21 gennaio 2018. Si tratta di una piattaforma online, quindi ovviamente le candidature possono essere presentate in qualsiasi momento, sabato, domenica, giorno e notte. L'unico momento di sacco è che comunque le proposte candidate sono soggette a un momento di moderazione prima di essere pubblicate sul sito. Durante tutto il periodo dello svolgimento del contest verranno propositi dei webinar. Questo è il primo di una serie, di un ciclo di quattro webinar che si svolgeranno durante il periodo del contest proprio per, oltre che per farlo conoscere, per dare degli strumenti utili a chi vuole partecipare. Il prossimo webinar è già programmato per il prossimo 14 novembre alle 15, è già possibile iscriversi attraverso la piattaforma Eventi.pa. Questo webinar è in particolar modo rivolto a scuole e università che si vogliono avvicinare al tema degli open data che magari non hanno ancora conoscenze approfondite sul tema, quindi verrà fatta una panoramica generale sull'open data e le opportunità di riuso dei dati. Gli altri due webinar che si svolgeranno probabilmente a fine novembre e a metà dicembre saranno uno sulle visualizzazioni grafiche e sul data journalism e l'altro sullo sviluppo di applicazioni che riutilizzano dati aperti. Il calendario dei webinar verrà pubblicato sul sito contest.formes.it alla pagina webinar e comunque sarà promosso attraverso i diversi canali utilizzati per la comunicazione del progetto OpenRAS in generale e del contest. Si tratta quindi dell'account Twitter dell'open RAS e la pagina di cui si è già parlato nel catalogo open data della regione Sardegna, la pagina dedicata al contest. Quali proposte di riuso possono essere candidate? Le proposte possono essere candidate in quattro diverse categorie. Si tratta di applicazioni, rappresentazioni visuali dei dati, articoli di data driven journalism e dati geografici. Le applicazioni sono applicazioni che possono essere utilizzate da mobile o da applicazione desktop e forniscono un servizio utile a cittadini, ma anche alla stessa pubblica amministrazione, basato sull'utilizzo di dati aperti. Il filo conduttore di tutte le proposte candidate è che devono essere basate almeno su uno dei data sette presenti nel catalogo open data della regione Sardegna. La seconda categoria è rappresentata dalle visualizzazioni grafiche, si intendono ad esempio infografiche o comunque quei tipi di rappresentazione che rendono più facile la lettura di dati. In questo caso, come negli altri casi, come in tutte le altre tre categorie, i dati utilizzati possono essere mixati con dati provenienti da altri cataloghi open data e non. l'altra categoria è la data journalism, qua possono essere candidati articoli di taglio giornalistico che appunto siano basati su dati aperti. L'ultima categoria è i dati geografici, si tratta anche in questo caso di un'applicazione, ma che utilizzi dati georeferenziati. Abbiamo pensato di differenziare questa categoria rispetto alla categoria applicazioni perché le applicazioni che utilizzano dati geografici hanno delle loro caratteristiche particolari e anche per valorizzare proprio la categoria dei dati geografici che ha un peso significativo all'interno del catalogo open data della regione Sardegna. I dati devono essere presenti, o almeno un data, se tutti gli dati devono essere presenti nel catalogo della regione Sardegna e questo deve essere indicato nel form di candidatura della proposta. La proposta deve essere in lingua italiana però può essere, anzi sarebbe auspicabile che fosse utilizzabile anche in altra lingua. Il catalogo open data è stato già presentato e quindi su questo è abbastanza chiaro e i dati del catalogo open data della regione Sardegna possono essere, come abbiamo già detto, utilizzati e coordinati con altri dataset aperti. Qui vi ricordiamo che nel catalogo dati.gov.it sono raccolti un gran numero dei dataset pubblicati nei diversi cataloghi della pubblica amministrazione italiana. Quindi può essere un punto di partenza utile per cercare altri dataset, per individuare altri dataset che possano essere utilizzati nella realizzazione dell'applicazione. La valutazione delle proposte. Per la valutazione delle proposte verrà nominata una giuria di esperti sulle tematiche dell'open data, una giuria composta da 5 partecipanti. Al momento non è ancora stata individuata, la proposta non appena sarà disponibile sarà presentata nella pagina giuria e premi sempre nel sito del contest. Nel regolamento vengono illustrati anche i criteri di valutazione delle proposte. Come già accennato, la proposta dopo una valutazione di massima verrà pubblicata sul sito del contest, dopodiché tutte le proposte saranno soggette alla valutazione della giuria. La giuria procederà alla valutazione sulla base della coerenza e del rispetto di 7 indicatori che vediamo elencati qua. Si va dalla coerenza con gli obiettivi generali del contest, alla creatività e originalità della proposta, l'impatto in termini di miglioramento della qualità della vita, la qualità intesa come qualità in termini di design e di user experience, l'utilizzo di software aperti sia per la produzione che per la pubblicazione della proposta, la capacità di promozione e di valorizzazione dei dati del territorio della regione e la realizzabilità e la sostenibilità nel tempo. I premi sono state individuate tre categorie di premi, una per cittadini e imprese, una per scuola e una per l'università. Per cittadini e imprese saranno costruite 4 graduatorie, una per ciascuna categoria, ossia per applicazioni e rappresentazioni visuali, data driven journalism e dati geografici. Scuole e università invece avranno una graduatoria ciascuna nella quale concorreranno le proposte presentate per le diverse categorie. Abbiamo cercato di individuare dei premi che fossero un po' i più adatti possibili alla categoria di partecipanti, quindi potete vedere che i premi per cittadini e imprese sono diversi da quello dedicato alle scuole e quello dedicato all'università. I dettagli comunque di queste informazioni sono comunque disponibili sul sito del contest. Il sito del contest è anche il luogo dove devono essere inviate le proposte di candidatura attraverso l'utilizzo del form al quale si accede dal click sul pulsante e candidano una nuova proposta. Per candidare una proposta è necessario essere autenticati sul sito. L'autenticazione avviene tramite il sistema di FPOUT che è il sistema di autenticazione del dipartimento della funzione pubblica e nel quale viene richiesto di fornire un certo numero di dati anagrafici che sono utili e necessari per l'identificazione dell'utente e in questo caso come si tratta di una attività finanziata nell'ambito del POR FSE 2014-2020 abbiamo anche degli obblighi per quanto riguarda la rendicontazione dei partecipanti. Una volta fatto il login nel sistema è possibile inserire la candidatura. L'inserimento della candidatura viene fatto attraverso la compilazione di un form dove è presente un certo numero di campi obbligatori che devono essere compilati per consentire alla giuria di valutare nel miglior modo, con maggior chiarezza possibile, la proposta candidata. In caso di difficoltà, di dubbi sull'utilizzo del sistema o sull'interpretazione del regolamento è possibile contattare l'helpdesk attraverso il form presente sul sito del contest o come già detto attraverso l'indirizzo email o l'account twitter. Le risposte ai quesiti vengono raccolte e pubblicate anche nella pagina delle FAQ che raccoglie un elenco di domande frequenti con le relative risposte. Noi abbiamo iniziato ad abbozzare una serie di domande che abbiamo pensato potessero essere utili per la presentazione della proposta, però ulteriori domande possono essere presentate attraverso i canali che abbiamo indicato. Come ho già detto, il contest è un'attività che rientra all'interno del progetto OpenRAS che è finanziato dal Power F6 2014-2020. Grazie molte, abbiamo ancora qualche minuto Sabrina perché sei stata molto attenta, quindi se ci sono domande, quesiti da fare su questa parte di partecipazione operativa, quindi gli strumenti, gli spazi, in modo con cui si potranno presentare le proposte abbiamo ancora qualche minuto. Come abbiamo detto, questo è il primo di un ciclo di webinar, ci saranno quindi altri momenti nei quali potremmo continuare a ragionare e a parlare di questo concorso, avete molto tempo, ci sarà molto tempo, noi riteniamo che sia un tempo congruo per poter ragionare sui dati, vedere e individuare quelli più interessanti, eventualmente partecipare se si desidera farlo, se si è nelle condizioni per farlo. Come vi ha detto già nel suo intervento iniziale, il processo di pubblicazione dei dati è in corso, quindi è un catalogo che in maniera dinamica si sta cercando di arricchire, quindi noi speriamo che tra tutti i data sette disponibili ora e quelli che saranno disponibili da qui alle prossime settimane, chi desidera partecipare troverà dei temi, dei dati interessanti sui quali lavorare. Se siete interessati comunque a seguire questo concorso, a capire come sta andando avanti, ad approfondire anche in generale il tema del riuso dei dati, che saranno poi gli argomenti dei prossimi webinar, come Sabrina vi ha detto, continuate a seguirci, noi daremo comunque informazione sulle date dei prossimi webinar e delle attività previste per la promozione del contest, sia su Eventi PA che attraverso gli spazi web e i canali che sono presidiati dal progetto OpenRAS. La registrazione di questo webinar sarà disponibile da questo pomeriggio, da questo pomeriggio sarà possibile anche scaricare da Eventi PA gli attestati di partecipazione. se non ci sono domande, mi sembra di no, scorrendo la chat, io ringrazio voi per aver partecipato, ringrazio i due relatori, sia Sabrina che Giaime per aver raccontato il contest e vi do appuntamento quindi al prossimo che, come ha detto Sabrina, sarà il 14 novembre, dedicato in particolare alle scuole e alle università e poi ai successivi che man mano vi comunicheremo. Grazie a tutti, buona giornata! Grazie, grazie a tutti!